Vi ricordo che sono in live ogni sera su Twitch, basta cercare le bullshit, nella descrizione c'è il link, followatemi Vi ricordo che YouTube rimane sempre attivo per tutti i video con le azioni più belle, le partite più belle e per le live ogni volta che lancio un nuovo gioco faccio la live in contemporanea su Twitch e YouTube Ora, il dubbio è, quelli là sono a camperare con degli schifosi da un'ora, aspettare che arrivi Dovrei andarmene con la bounty o provare ad andare a prendere l'altra bounty qua, sapendo che potrebbero ammazzarmi male Secondo me questi sono appostati che mi aspettano, però ribadisco Dai ragazzi, lo sapete voi, lo so io che sto arrivando Hello guys Oh Questi hanno già trovato e ucciso il butcher, quindi quelli che ai fianchi cercheranno di correre là, infatti Sedite questi cani? Se ne stanno fottendo, sono là dentro in questa fattoria per ora Ne abbiamo pure sulla destra, là Ora questi possono essere tranquillamente in questa laguna Sedite quegli zombie di incazzare Ok E' lì E c'è uno là sopra Uno l'ho letto due volte Non so assolutamente se sono riuscito a atterrare quello Eccola Uno l'ho atterrato L'ho atterrato pure l'out Quelli sono ancora là E c'è un altro team Stanno passando da qua sotto Andiamo all'istante a still water Prendiamoci questo indizio Io cerchiamo gli altri indizi Cerchiamo andare a vedere che stanno facendo gli altri hunter Qua facciamo notte Quelli non hanno preso neanche le bounty Aspettano l'altro hunter Direttare che facciano il ragno Lo sapevo Qua c'è il mostro Questi stanno facendo il ragno Ok Benissimo Pronti Al fight Ecco qua un hunter Ecco qua un'attaccio Ecco qua un'attaccio Qua c'è il m'è Chia Ma Viva La Qua c'èerto questi non sanno a giocare il 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 Grazie. Ve l'ho detto. Cioè in questi qua in un'ora non hanno fatto niente del ragno. E anche il cazzo di solletico gli hanno fatto questo ragno. Grazie. Ho bisogno di munizioni raga. Non è per cattiveria. Ancora sputti non lo so ammazzare. C'è un carro munizioni là. C'è un carro. Oh il merda. Quindi quattro l'abbiamo ammazzati noi. Ora il dubbio è quelli là sono a camperare come degli schifosi da un'ora. Aspettare che arrivi. Dovrei andarmene con la bounty. O provare ad andare a prendere l'altra bounty qua. Sapendo che potrebbero ammazzarmi male. Oppure solo una benda per curarmi. Ah sì ma sapete cosa? Ma a me è fotte poco. Anche perché questi possono essere qualunque cazzo di posto. Possono essere cioè mi vedono per ora. Sanno dove sono. Sulla mappa io vengo segnalato. Non so che questi qua non sono stupidi. Va bene? Però mi chiedo come caspita si faccia a giocare così. Cioè due ore nascosti appollaiati. Se sono ancora qua. A meno che non era una persona sola che ha ucciso il mostro. Anche se mi sembra strano. E quella persona sta semplicemente poi morta. Magari per un mostro mentre aspettava la bounty. Mi sembra estremamente strano. Secondo me questi sono appostati che mi aspettano. Però ribadisco. Dai ragazzi lo sapete voi? Lo so io che sto arrivando. Hello guys. Aren't you tired to wait here? Qui c'è uno morto. Là c'è un altro morto. Erano morti. Se siete arrivati fino a questo punto vi ricordo che sono in live ogni sera su Twitch. Basta cercare Bullshank. Nella descrizione c'è il link. Questo lo dico perché questa partita. A meno che non mi ammazzano male. Cosa possibilissima ancora. La finire è su YouTube. Followatemi. Vi ricordo che YouTube rimane sempre attivo per tutti i video con le azioni più belle. Le partite più belle. E per le live ogni volta che lancio un nuovo gioco. Faccio la live in contemporanea. Su Twitch e YouTube. Fatemi sapere nei commenti se volete vedere più Hunt Showdown su YouTube. E magari un like. 20 secondi. 20 secondi più lunghi della mia vita. Prendiamoci questi ultimi punti. You live to die another day. Vediamo quanti punti abbiamo fatto. Questo è un personaggio livello 1. Non abbiamo ammazzato tanti mostri per ovvie ragioni. Questi sono gli zombie quelli normali. Ne uccisi 17. Hellound. I cani. Ne uccisi 2. Quelle con... Che fanno gli insetti. Ne uccisi 2. Hunter killed. 5 ne uccisi. 5 ne uccisi. Ragazzi. Più della metà la popolazione della mappa perché si gioca in 10. Sono 5 loro. Più 1 io 6 ne rimanevano 4. Siamo a livello 12. Qua 13. Abbiamo fatto fare 13 livelli bellissimi. E nuovo unlock che ci ha fatto unloccare la dinamite. No, quella nel prossimo... Nel prossimo livello sbloccheremo la dinamite. Questo è il dettaglio. Guardate. Tutto quello che ho fatto. Ho trovato solamente un paio di indizi. Un paio di indizi per... First, third, spider layer. Quello che è. E 5 hunter uccisi. Quindi 5 giocatori uccisi. island. Per il diritto. E questo è un paio di indizi per... Un paio di indizi. È un paio di indizi per l thick Un paio di indizi per fare curiosità per l'adventura. LD